la matta tribù due animatori per tre ore di festa baby dance, balli di gruppo, giochi di movimento personaggio dei cartoni animati al momento della torta gare di abilità, micromagia teatrino, jumping o trottola gigante, paracadute multicolor maghi, trampolieri, giocolieri, sputacuoco spara coriandoli, bengalini per la torta e il regalo per il festeggiato e tutti gli invitati comunicazione a tutti i passeggeri dello Space Shuttle qui è il capitano che vi parla e siamo diretti verso la luna allacciata le cinture e buon divertimento non Grazie a tutti 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 Parleremo con voi Dallo spazio E poi ci saranno tanti altri personaggi Inoltre guarderemo la terra da qua giù Anzi da qua su E poi potremo vedere dalla terra Quali sono i problemi che si possono risolvere Secondo me ci sono tanti Di problemi sulla terra Soprattutto a livello di Che ne so Di ecologia Soprattutto problemi ecologici Ecologici Il pianeta terra Così un bel pianeta ma a volte viene utilizzato male Infatti Infatti Va bene Bambini ci vediamo sulla luna Noi continuiamo il nostro viaggio Il viaggio Sì Ciao bambini Ciao Eccoci bambini Ecco così Apriamo la nostra bottiglia Versiamo ecco qua così Il succo all'interno del bicchiere La quantità la decidete voi Eccone qua Ne mettiamo un altro po' Chiudiamo di nuovo la nostra bottiglia Poi prendiamo un po' di sciroppo di amarena Eccolo qua In questo modo Lo apriamo Ne versiamo una goccia Ovviamente più ne versiamo Più il nostro cocktail Ecco qua Avrà un retro gusto di amarena Abbiamo messo l'amarena Ecco qua Richiudiamo la bottiglia Prendiamo una cannuccia La mettiamo nel bicchiere Giriamo e giriamo e giriamo In questo modo E dopo cari bambini Dovete solamente bere Ecco qua Così come farò io Mmm Bambini E' veramente buono Consigliatelo anche ai vostri amici Ci vediamo Alla prossima puntata Con un nuovo cocktail Ciao Ciao Pollastro Ciao Ornella Che bel lavoretto che abbiamo fatto ieri Bello vero? Oggi che lavoretto facciamo? Oggi facciamo Un lavoretto nuovo Prendiamo una bella tela gigante Cari bambini e cara Ornella E prendiamo i colori acrilici Poi prendiamo un grande pennello E disegniamo tutta la tela gigante Pensate che poi potete anche imitare La tela sul foglio Perché il disegno è sempre lo stesso E allora io direi Ornella Prendiamo la tela Prendiamo i colori Prendiamo i pennelli E iniziamo il nostro lavoro E vai Bene allora Ornella vai Prendi anche il materiale Che adesso vado a prendere il mio Per iniziare Va bene Ciao Pollastro Ciao Ciao Eccoci qua bambini Siamo pronti per fare il nostro lavoretto Oggi disegniamo una bella tela bianca E poi prendiamo i nostri colori Per iniziare il nostro dipinto Allora cosa ci serve? Innanzitutto una tela bianca Un bel cavalletto dove ci possiamo sistemare sopra E poi ci serve Colori Il colore nero Pittura lavabile di colore bianco Un bel barattolo grande Ci serviranno tutti i nostri madre tinta Colorati per tingere il colore bianco E farlo diventare in tutti i colori che vogliamo E poi Tanti tipi di pennello Come il pennello più grande O il pennello più piccolo E infine Per sfumare Per dare quei piccoli rilievi di sfumatura Noi usiamo una bomboletta spray Bene A questo punto Cari bambini Possiamo iniziare Prendiamo La nostra pittura nera Prendiamo Il nostro pennello più piccolo E iniziamo A disegnare Sulla nostra tela Un'isola deserta Iniziamo a disegnare 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 Grazie a tutti. 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 Chiudo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vai. Grazie a tutti. 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 Va bene. Ciao. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti.